ma innanzitutto al di là che domani incontreremo l'avellino credo che tutte le partite di questo campionato siano difficili abbiamo viste sin dalla prima a taranto affrontiamo una squadra che attrezzata per vincere il campionato è inutile girarci intorno ha avuto le sue difficoltà in questa fase iniziale una difficoltà ulteriore per noi sicuramente il cambio di allenatore per quanto riguarda lo svolgimento della partita che poi porta sempre stimoli e situazioni diverse e quindi sarà una partita complicata sotto certi aspetti però mi auguro che avellino foggia possa rispecchiare rispecchiare quello che sia poi la anche la storia delle due delle due società no e quindi credo che venga fuori una bella partita una bella partita giocata una bella partita combattuta perché sicuramente non andremo non andremo ad Avellino a fare a fare a fare una passeggiata questo è chiaro andiamo là a giocarci la partita sapendo che che sarà molto difficile in un ambiente difficile però noi siamo in cerca di identità e quindi non siamo partiti bene in questo campionato poi abbiamo fatto una vittoria lunedì scorso che ci ha dato molto morale forse quello che ci serviva per poter lavorare anche tranquilli più tranquillamente non perché prima non lo stessimo facendo assolutamente però per credere ancora di più in quello che quello che vogliamo fare